Romeo Sacchetti, l'esordio in casa davanti al pubblico di Pesaro dopo essere stato un rivale, adesso sei dalla nostra parte, quali le tue sensazioni? Sicuramente è una piazza molto importante, l'ho provata sulla mia pelle di cosa è importante il pubblico di Pesaro, sicuramente il coinvolgimento è una parte importante, però la parte importante deve essere data dalla squadra, la squadra deve dimostrare di giocare al limite delle proprie possibilità e la gente di Pesaro penso che capisca questo. Non ti aspetta un esordio facile perché arriva Milano, campione d'Italia, però a volte si dice che queste forse sono le partite più facili da preparare per un allenatore perché la squadra gioca senza pressione, speriamo. Un po' di pressione ci deve essere ma la presizione è positiva, è logico che giocare contro questo, contro una squadra con Milano, ti dà un qualcosa di più dentro personale perché vuoi dimostrare un qualcosa di diverso, di essere anche in grado di stare contro una squadra così, è stimolante giocare contro questo, è difficile, è più difficile, però stimolante. Ci sono dei giocatori che certe volte sentono questa partita in una maniera impressionante e quando ci sono delle partite che qualcuno snobba, portavo l'esempio l'altra volta di Trevis Diner, che quando si giocavano delle partite sulla carta facili lui scherzava e tutto e poi noi rischiavamo di perderle, però quando c'era l'impegno importante litigavo con lui perché non volevo uscire, perciò voglio dire, i giocatori tosti vogliono anche queste sfide. Ultima cosa, Scott Bamford è pronto a rientro, però dovrai gestirlo col bilancino, credo. Adesso siamo un po' in mano ai dottori, oggi farà qualche cosina, vediamo un pochettino col preparatore e con i dottori la sua gestione che è un po' la parte più difficile.